Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Manolo941 e oggi siamo tornati su Fall Guys, signori miei, siamo ancora alla ricerca della nostra prima vittoria in questo mannaggia di gioco Non so quanti episodi ho già fatto, forse questo è il sesto, il settimo, non lo so, ho fatto pure una live e non siamo mai riusciti a ottenere una vittoria Porca di quella vacca maiala, ma porca miseria Comunque, siamo a livello 5, ci avviciniamo a livello 6 Detto questo, signori miei, siamo con questo bel rosso che è il colore che ci è rimasto dall'ultima live Andiamo a vedere se troviamo un colore nero-azzurro, signori miei, non c'è un colore nero-azzurro, c'è tutto azzurro, signori C'è tutto azzurro, a strisce, azzurro così, non mi sa molto di inter questo colore, però è simpatico, è simpatico, va bene così Ce lo teniamo così il nostro mino, il nostro mino a strisce nero-azzurro, è molto fantasioso ma ci sta, ci sta Detto questo, signori miei, prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto e per tutto quello che è data a questa serie Vi ricordo sempre di sostenerla, fatemi sapere comunque se vi piacciono ancora questi episodi di questo gioco Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come maullo941 sia su Instagram che su Facebook Ricordo soprattutto Instagram perché nelle storie si vi aggiorno per quanto riguarda le live E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni potete farlo con il link che trovate in descrizione al video Detto questo, partiamo con il video e non perdiamo altro tempo Ok signori, il primo livello è SISO, quello delle piattaforme mobili, mamma mia come non lo sopporto questo gioco Perché tutti invece di andare al centro e muoversi contemporaneamente, ognuno fa la propria strada no? E quindi mette nella marmellata tutti gli altri Questo livello è abbastanza insopportabile, però ci riusciamo raga L'obiettivo è riuscire quantomeno ad arrivare in finale Allora, dico, riusciamo a fare una sessione di... da dove partiamo? Ok, terza fila, quella è una banana al contrario, che carina la banana al contrario Dai, 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 non perdiamo tempo, non perdiamo tempo, non perdiamoci in chiacchiere Gli altri sono solo nemici, sono solo nemici che ci fanno rotolare male Mannaggia a voi, se vi becco... no, no, alzati, alzati, alzati Partiamo male, partiamo male, ma perché rotoli tic-tac? Dai, tic-tac al gusto, al gusto? Blu, che gusto potrebbe essere? Una tic-tac gusto blu? Che gusto è? Gusto viagra? No, 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 non è una tic-tac che possiamo tenere in considerazione No, no, non mi alzatemi, non alzatemi la piattaforma, mannaggia a voi, salta Va bene così, va bene così, va bene, vai da tutta l'altra parte, vai, salta su blu Ok, vai, 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 vai Già qualcuno è arrivato, no, ok Ancora non si è qualificato nessuno, raga, ancora non si è qualificato nessuno Vediamo se riusciamo Dai, 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 vai sul viola, vai sul viola, vai sul viola Blu, blu, viola, 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 viola Viola, abbiamo deciso per il viola, giallo, 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 giallo Bello così, giallo, giallo Mi serve, mi serve il viola Mi fate scendere la piattaforma viola mi fate scendere la piattaforma viola mannaggia a voi mi fate scendere bello così Dai 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 no non ci credo non ci credo non ci credo raga In due già si sono qualificati mannaggia a loro e a chi non glielo dice pure Astag mannaggia a loro raga dai 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 riusciamo a fare un colposo di genio mamma Quello mi stava dando una testata e mi sta facendo cadere fuori In cinque si sono qualificati raga ancora c'è un'altra sessione di piattaforme E ancora c'è un'altra sessione di piattaforme dai dai che ce lo possiamo fare dai che ce lo possiamo fare Dai 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 io credo in te tic tac io torno a credere in te tic tac dai dai tic tac non mi deludere Non mi deludere tic tac dai così dai così mamma mia siamo tutti qua in 11 già sono passati In 11 già hanno passato il turno e guarda quanti ne stanno arrivando là La giriamo questa piattaforma mannaggia a voi Dai così dai così in 18 dai 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 ce la possiamo fare ce la possiamo fare ce la possiamo fare No 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 di là 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 22 zitti che ce la facciamo Zitti che ce la facciamo 25 zitti che ce la facciamo Taglia raga siamo passati come a ventottesimi Porca di una miseria dagli così dagli così siamo passati ok Primo livello superato primo livello superato mamma mia che cosa complicata sto livello raga Mamma mia che cosa complicata mamma mia Ok dai 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 vedete la difficoltà Peccato l'ovetto non ce la fa per poco scommessa Scommessa che l'ovetto nel 41 42 e infatti ma non ce l'ha fatta per pochissimo l'ovetto dai Ma poverino comunque abbiamo passato il turno noi dobbiamo portare l'acqua al nostro mulino signori mei Dai 50 rimaniamo in 42 va bene così va bene così Dai vediamo qual è il prossimo livello sono carico sono carico Le ultime parole famose raga ora sì ora finiremo fuori sicuro Prossimo livello prossimo livello qual è dai dai dammene uno simpatico dammene uno simpatico Quanto meno uno in cui posso passare il turno non tanto uno simpatico quanto meno uno dove posso passare E sai che non faccio memory Ok gate crash ok in quello delle porte che si alzano e si abbassano ok Questo è tutto un discorso di timing Dobbiamo stare concentrati e portare a casa questo altro passaggio di turno Concentrati tutto una questione di capire giusto su quale porta andare Ricordiamoci lo scivolo e ricordiamoci di Mi avete dato un consiglio ovvero forse quello di saltare quando c'è lo slime Ora non me lo ricordo Si qualificano in 29 Partiamo dall'ultima fila noi però ce lo possiamo fare Io credo in te tic tac Dai così dai così dai così dai così Bravo 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 ok La prima porta è andata ora questa si cala ok Noi riusciamo a passare dai così Siamo saltati in testa uno dai 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 No mannaggia di una pupazzi Ambriaca dai 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 così Dai così dai così dai così Quello sale quello sale Questo scende e noi passiamo ok Ok stiamo andando bene stiamo andando bene Stiamo andando bene stiamo andando bene Siamo troppi qua siamo troppi qua Dai e così bello lo slime lo slime Stiamo calmi stiamo calmi stiamo calmi Calma 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 Ma mannaggia no 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 Ce l'avevamo fatta raga ce l'avevamo fatta Mannaggia allo slime Mannaggia allo slime, no, per uno Per uno, per uno Non ce l'abbiamo fatta, per uno Non ci posso credere Non ci posso credere, per uno Eh vabbè dai Ci riproviamo, ci riproviamo raga Ci riproviamo Ci riproviamo, sì Ma di cosa sei contenta, tic tac Abbiamo fatto una figura di marmellata Lei è contenta, ritorniamo in campo subito Raga, così calda, calda, veloce, veloce Veloce, rapido in dolore, veloce, rapido in dolore Nuovamente si so, mamma mia Di non si so, porca miseria Che paranoia di partita Che paranoia di partita Non riusciremo mai a fare una vittoria, è assurdo Eh sì, non so come facciano gli altri Gli altri che ci giocano, per non dire Gli altri che lo portano su YouTube A vincere, io non ci Non ci riusciremo mai, o giocano ore e ore Praticamente, quindi oramai hanno Un'abilità che è qualcosa di pauroso O non so come riescano Praticamente, guarda che cacciara Che c'è qua, guarda che cacciara Che c'è qua, ando sto, ando sto Alzati, tic tac Niente, addirittura, proprio Ripartiamo proprio da dietro C'ho un piccione che mi sta colpendo Dico, poi uno dice perché odio i piccioni Dai così, stai calmo, stai calmo, tic tac Calzati, tic tac, calzati, alzati, alzati Devo stare calmo Devo stare calmo La calma è la virtù dei forti La calma è la virtù dei forti La calma è la virtù dei forti Ecco, bello, bello tranquillo Così, mi devo fare gli affari miei Devo correre, perché questo sta volando? Perché quello lì sta volando, signori? Perché quello dietro di me sta volando E non sta camminando normalmente? Qualcuno me lo dice? Era posseduto praticamente, va bene C'è quello con l'uovo in testa che è posseduto, signori Non so che giochi stanno facendo strani tutti e due Di là sono cascati tutti Quindi in teoria No, 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 voglio andare sul blu Io voglio andare sul blu Dagli così, dagli così, zio Aspetta che arrivo e ti venga ad aiutare Aspetta che arrivo, dai, 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 dai No, 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 no Braha, ha, ha, ha C'ho piacere, sei cascato di sotto Dai così, dai così No, no, no Perché non mi fanno scendere il giallo? Qualcuno me lo dice perché non mi fanno scendere il giallo Mannaggia all'oro Mannaggia all'oro Dai, 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 dai Come faccio a saltare sul giallo io? Mannaggia, mannaggia Dai, 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 dai No, 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 è ancora troppo alto il giallo In 11 già si sono qualificati, raga In 11 già si sono qualificati Che stiamo a fare? Perché non scende il giallo? Dai, 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 dai Oro mai più, oro mai più, oro mai più, oro mai più Mai più, signori me Mai più Proprio quando uno dice oro mai più, mai più Qui, se non basta Quello si è buttato Perché si è buttato direttamente quello? C'è stato il tizio davanti a me che si è buttato direttamente Dai così, dai così, dai così Ok, sono qualificati già in 17 Dai così, aspetta che li piglio tutti al volo Li piglio tutti al volo Dai, 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 dai Dove, dove, alto di tic tac? Non casca, non casca, non casca ora Non casca ora, non casca ora, non casca ora Non casca ora Va bene così Sono qualificati in 18 su 43 In 18 su 43, va bene 22 su 43 Ce la possiamo ancora fare Ce la possiamo ancora fare No, 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 no C'ho un pomodoro alle spalle C'ho un pomodoro alle spalle Non è la cosa più bella del mondo No, 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 no Calma, 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 calma No, ho perso il viola Ho perso il passaggio del viola, signori In 33 su 40 In 33, 37, 38, 39, 41, 42 Dai così Dai così Ora mai si sono qualificati Finita qui, raga Mamma mia che episodio brutto Mamma che episodio brutto Riusciremo prima o poi, signori Ad arrivare in finale Riusciremo Ma non è oggi il giorno, purtroppo Non è oggi il giorno Detto questo, signori miei Io vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per la pazienza che avete Nel guardare questi video E non vedere mai una vittoria Praticamente Detto questo Noi ci vediamo Sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao